Rivarolo Canavese, un pomeriggio dedicato all'orientamento, si è tenuto lo scorso sabato, 25 ottobre, presso il Salone Comunale in Via Montenero. L'evento, promosso dalla rete territoriale Scuole Secondarie, è stato organizzato dal Comune di Rivarolo Canavese in qualità di capofila dell'accordo di programma, sottoscritto con la provincia di Torino, nell'ambito del piano provinciale orientamento. L'evento è stato rivolto alle famiglie e ai ragazzi, che frequentano le classi terze delle scuole secondarie di primo grado di Rivarolo, Fabria, Castellamonte, Aglie, Pont, Locana, Bosconero, Cormier, Valperga e Forno Canavese, con l'obiettivo di informare sulle offerte formative delle scuole secondarie di secondo grado e delle scuole professionali, presenti sul territorio.